Un sistema istituzionale praticamente al collasso, dove a comandare è chi grida di più. Parliamo di scuole e terremoti. Le province sono state svuotate di funzioni e di soldi. Accade così a Caserta che c'è un rischio, non portare a termine l'anno scolastico, perché la provincia ha alzato bandiera bianca, non ha neppure i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti, figurarsi la manutenzione straordinaria. Ed ecco che in soccorso arriva la regione Campania, con uno stanziamento da un milione di euro che consentirà di portare a termine le elezioni quest'anno e di programmare anche interventi per il prossimo anno. Ora, ad Avellino siamo molto più avanti. Le scuole sono state già chiuse, dalla magistratura peraltro. E se non si interverrà nel corso di questa estate, numerose scuole, decine, rischiano di chiudere per gli stessi motivi nel corso del prossimo anno scolastico, perché mancano i certificati dell'antincendio, ma peggio, mancano verifiche antisismiche. Ora, benvenga l'intervento della regione, ma abbiamo voluto controllare, dati alla mano, qual è la situazione, mettere a confronto la provincia di Caserta con quella di Avellino. Sapete in provincia di Caserta quanti comuni vengono classificati con un rischio sismico elevato? Un cosiddetto indice 1. Cinque comuni si contano sulle dita di una mano, sono i comuni interessati in passato dal terremoto del Matese. Sapete in provincia di Avellino quanti comuni vengono classificati ad elevato rischio sismico? Quindi con indice 1, quasi 60. Questo per far comprendere di che portata è il fenomeno in provincia di Avellino della sicurezza degli edifici scolastici. Per carità ci sarà una provincia virtuosa che ha dei fondi a disposizione, ma non crediamo affatto, visto che anche la provincia di Avellino denuncia il fatto che ormai per scuole, per strade, non ha più fondi. E allora ben venga l'intervento della regione, ma si dia priorità ai numeri. I numeri che non mentono. 60 comuni in provincia di Avellino sono ad alto rischio sismico. Solo 5 in provincia di Caserta. A Caserta arriva un milione di euro. Dalla regione in Irpinia arrivano zero fondi. Le priorità vanno riviste. Allora, caro governatore De Luca e in particolare mi riferisco anche ai consiglieri regionali irpini che hanno tenuto gli occhi chiusi fino a questo momento sul problema, ma non dovrebbero aspettare che il problema esploda prima o poi. Allora, come va il mondo? La filiera istituzionale è al collasso, ma chi comanda, chi grida di più? E questo è il punto.